Musica Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2 scatta. Dunque oggi il Green Pass obbligatorio per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar ha di imporlo l'ultimo decreto che prevede l'impiego della certificazione verde anche per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive ma anche musei e altri istituti e luoghi di cultura. Piscine, palestre, centri benessere compresi quelli collocati all'interno di strutture ricettive al chiuso, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia compresi i centri estivi e le relativi attività di ristorazione, sale gioco, scommesse, bingo e casino con corsi pubblici. Il decreto prevede che i titolari o gestori dei servizi e delle attività per le quali serve appunto il certificato sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Dunque spetta ai titolari negli esercizi controllare il pass attraverso verifica Covid-19 l'app ufficiale del Ministero della Salute. Controlli che ovviamente potranno essere svolti anche dalle forze di polizia. Il Green Pass sarà invece obbligatorio dal 1 settembre per il personale della scuola, cominciare dai docenti per i trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi. E sono 85 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76.679. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.515. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72.504 dimessi perché guariti, 40 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.660, 45 in più. 41 pazienti, 3 in più, sono ricoverati in ospedale e in area medica, uno in terapia intensiva. Mentre gli altri, 1.618, 42 in più, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASLA. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.318 tamponi molecolari e 3.625 test antigenici. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari all'1,43%. E torniamo a parlare della salvaguardia dei tribunali cosiddetti minori. Per provare a rimettere i tribunali in carregiata, sindaci, presidenti di province e degli ordini degli avvocati e parlamentari intervenuti al nuovo vertice a distanza, seppur con qualche sfumatura diversa, lanciano un accurato appello alla presidente del Senato, Maria Alberta Casellati, affinché assegni il disegno di legge caliendo alla Commissione giustizia in sede deliberante, in modo da essere approvato nel più breve tempo possibile. Provvedimento in esame, sottolinea il documento appello elaborato dai presidenti, degli ordini degli avvocati, condiviso dagli amministratori locali e parlamentari, che sarà inviato alla Casellati, riprende integralmente il testo dell'emendamento al decreto legge, approvato all'unanimità in tre diverse commissioni del Senato, poi stralciato per estranietà di materia, per cui è certamente completo e già individua la copertura finanziaria. La salvezza dei tribunali abruzzesi fino al 2024, quindi, sembrano ancora alla portata, visto che lo stop imposto all'emendamento dalla presidente del Senato non sembra proprio insommontabile. Ora quindi non resta che attendere le mosse della presidente Casellati. E prosegue l'appuntamento della settimana marsicana di sabato 7 agosto presso il Parco Torlonia di Avezzano. Alle ore 20.45 salgono sul palco i Three Generation, con il loro progetto musicale, che nasce interamente nel panorama musicale marsicano, dove componenti del gruppo hanno trovato il luogo dove crescere, in accademia, in sala prove e successivamente sul palcoscenico. Tre generazioni a confronto, che propongono esibendosi dal vivo, l'esecuzione dei più grandi successi dalla rock italiano anni 70 ai brani pop rock contemporanei e nazionali. E alle 21.30 far seguito per lo spettacolo di Cabaret di Gianluca Impastato, comico milanese, conosciuto dal pubblico per la sua esibizione a Colorado, interpretando l'enologo Chicco d'Oliva e Mariello Prappapappo, l'uomo dei misteri. Insieme al gruppo comico e turbolenti di cui fa parte dalla fondazione nel 98, ha vinto il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000, il prestigioso premio della critica, il premio Charlotte a Pestum nel 2002, e partecipa dal 2003 alla trasmissione Colorado su Italia 1. Nel 2017 partecipa poi alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha recitato anche in alcuni film comici con Diego Abba D'Antuono e in molti pies teatrali. Rock Poll ha programmato nel periodo del 9 al 15 agosto prossimi l'effettuazione dell'operazione congiunta europea denominata SPED, ossia velocità. Rock Poll è una rete di cooperazione tra le polizie stradali, nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale deriscono tutti i paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia e la Turchia, in qualità di osservatore, la Polizia dell'Emirato di Dubai. L'Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno e lo scopo della campagna SPED è di contrastare efficacemente su tutte le arterie europee di grande viabilità il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti dei veicoli a motore affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le forze di polizia stradale dell'Unione Europea e non solo stanno operando con le millesime modalità, strumenti omogeni e un obiettivo comune. Per l'intera settimana chiunque si metterà alla guida delle direttrici europee sarà pertanto conscio che in ogni paese che attraverserà il rispetto dei limiti di velocità verrà costantemente monitorato. Il Ministro dell'Interno con proprio decreto ha fissato per domenica 3 e lunedì 4 ottobre dell'anno corrente le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali non anche per l'elezione dei consigli circoscrizionali. L'eventuale turno di balottaggio per l'elezione diretta dei sindaci e dei comuni avrà luogo nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 7 alle 23 nelle giornate di domenica e dalle ore 7 alle 15 nelle giornate di lunedì. Facendo seguito a quanto previsto nel medesimo decreto il prefetto dell'Aquila Cinzia Turracco ha provveduto alla convocazione dei comizi elettorali con circolare pubblica sul sito internet della prefettura dell'Aquila nella sezione area 2 ufficio elettorale servizi demografici enti locali circolari. Si è tenuta questa mattina presso la sala figlia di Iorio della provincia di Pescara la conferenza indetta dai consiglieri regionali del gruppo PD Silvio Paolucci capogruppo Antonio Blasioli. Come consiglieri firmatari dell'atto ricepito dall'assise e votato anche dalla maggioranza veglieremo, dicono ora, affinché di oltre 131 mila euro sufficienti per tutto l'anno siano subito impiegati in modo da consentire l'apertura delle biblioteche già da settembre con la ripartenza di scuole e università e perché non manchino risorse per il 2022. Ascoltiamo cosa ha dichiarato proprio il capogruppo del PD Silvio Paolucci. Il gruppo regionale ha presentato un emendamento ma prima dell'emendamento che ha stanziato le risorse per la sanificazione c'è stata tutta una battaglia, interpellanze, mozioni del gruppo del PD, del collega Blasioni perché appunto questi centri vivi della cultura regionale abruzzese potessero riaprire e durante l'accesso agli atti che abbiamo portato avanti abbiamo scoperto che addirittura mancava la sanificazione, un vero e proprio cortocircuito nel quale il Presidente Marsilio diceva attraverso delle ordinanze sue che occorreva portare avanti un certo tipo di lavoro per la sanificazione ma non stanziava le risorse per farlo e durante questi accessi agli atti peraltro abbiamo potuto constatare che il tema non riguarda soltanto le biblioteche regionali abruzzese in tutte le nostre province ma addirittura gli uffici della giunta regionale, di qui la battaglia, l'emendamento, gli stanziamenti 131 mila euro che saranno sufficienti per il 2021 a sanificare le biblioteche, a riaprirle, infatti sono finalmente in corso di riapertura e anche a dare più sicurezza al personale della giunta regionale e ai cittadini che frequentano le biblioteche e gli uffici della regione, ma così non va bene e peraltro sulla cultura bisogna investire perché le biblioteche soffrono e daremo battaglia anche su questo di una carenza di organico, è il tempo di intervenire, basta questi corti circuiti, basta questa giunta lenta che non interviene su questioni così importanti. Presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso ha decretato l'approvazione del documento di fattibilità per la messa in sicurezza dal rischio delle balanghe della strada provinciale Frentana dal chilometro 16 e 422 al chilometro 22 e 200 che, come noto, durante l'intero arco della stagione invernale viene chiusa al transito per l'alto rischio di caduta di slavine che precipitano sulla carrabile. Lo studio di fattibilità prevede una soluzione con gallerie trincee che permetterà il transito dei veicoli in sicurezza anche durante l'intero arco dell'anno. Per realizzare l'opera saranno necessari, secondo lo studio economico valutato dal settore della viabilità, 20 milioni di euro. Immensa soddisfazione è stata espressa dal sindaco e consigliere provinciale Giovanni Di Mascio e dal vice sindaco Stefano Di Mascio e dal consigliere Domenico Ciccone, i quali hanno assistito alla firma del decreto definendo l'evento una pagina di storia indimenticabile. Ed un evento straordinario chiude la terza edizione della Rassegna nell'ombra della musica italiana della Società Aquilana dei Concerti Baratelli, il concerto di Carmen Consoli. L'appuntamento è per sabato 7 agosto alla scalinata di San Bernardino con inizio alle ore 21 e 30. Il concerto sarà introdotto da Folkast, giovane cantautore romano, Folkast in nome d'arte, di Daniele Folcarelli, classe 92. Porterà per la prima volta all'Aquila la sua musica e la sua chitarra per far conoscere un po' del suo Scopriti Tour, una serie di live estivi di successo dopo il podio tra le nuove proposte del Festival di Sanremo di quest'anno e da partecipazione al concerto del 1 maggio di Roma. Ed orissimo il Codacons contro gli stabilimenti balneari dove i controlli compiuti dai NAS hanno riscontrato una lunga serie di irregolarità ad anno diretto dei consumatori. L'associazione chiede infatti anche in Abruzzo, oltre all'immediata chiusura degli stabilimenti coinvolti, l'avvio di una sistematica serie di controlli per accertare la diffusione di comportamenti e condotte simili. Immaginare che uno stabilimento su tre possa essere caratterizzato da irregolarità fa già impressione. Ancora più impressione fa scorrere la serie di segnalazioni effettuate. Oltre alle gravi mancanze in termini di contenimento del Covid-19 tra le scoperte dei carabinieri, troviamo alimenti in cattivo stato di conservazione o scaduti, locali sporchi e senza manutenzione, assenza di sanificazione di qualsiasi misura di sicurezza alimentare. Una lista degli orrori che aveva tutto danno dei consumatori italiani, peraltro già colpiti da una valanga di rincari estivi e costretti a subire dopo mesi di pandemia un servizio non solo insufficiente, ma anche letteralmente pericoloso. Ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Abruzzo l'avviso pubblico per l'emanazione di un bando urgente sull'affidamento temporaneo della gestione del complesso sportivo Lenaiadi. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 23 agosto. Il giorno successivo si procederà all'apertura delle offerte pervenute ed entro il mese di agosto si aggiudicherà la gara con l'obiettivo primario dell'immediata riapertura del complesso. Dopo aver sanziato i fondi nell'ultimo consiglio regionale del 21 luglio, ancorché nelle more della pubblicazione e promulgazione della correlata legge, la giunta a sua indicazione dell'assessore Guido Quintino Liris ha evidenziato la necessità di un'immediata riapertura dell'impianto natatorio pescarese. La gestione prevista avrà la durata di un anno e sarà una soluzione ponte. In attesa della decisione finale circa l'affidamento pluriennale da decretare, dopo aver valutato anche l'ipotesi prospettata dal Comune di Pescara, cerca il trasferimento della proprietà nella sua disponibilità. Ammortizzatori sociali, riorganizzazione dei centri per l'impiego e politiche attive del lavoro sono gli argomenti trattati nella riunione tra il Ministro del Lavoro Angelo Orlando e gli assessori al ramo della conferenza delle regioni. Alla riunione a distanza con il Ministro c'era l'assessore regionale Pietro Quaresimale che ha parlato di riunione fruttuosa soprattutto perché ci ha permesso di capire meglio come dovrà muoversi la formazione dei lavoratori e le politiche attive da organizzare sul territorio. Su questo punto il Ministro Orlando ha messo sul campo la strategia che vuole portare avanti insieme alle regioni. Vero obiettivo da raggiungere spiega l'assessore Quaresimale a ridurre il gap tra le competenze effettive e quelle necessarie in modo da permettere al disoccupato di entrare con più facilità nel mondo del lavoro. E in questo senso lo stesso Ministro ha confermato la centralità per una crescita del mercato del lavoro, delle competenze cosiddette digitali, confermando infine che gli ammortizzatori sociali potranno essere erogati solo se legati a politiche attive del lavoro. E una lettera in cui si chiede di dare seguito agli impegni annunciati a favore dell'impresa abruzzesi è arrivata sulla scrivania dell'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente a ferma di Coldiretti Abruzzo. Nella missiva la principale organizzazione agricola torna a chiedere l'intervento dell'amministrazione regionale su due questioni particolarmente spinose. Il ritorno dell'autogoverno dei consorsi di bonifica, attualmente commissariati, e l'ottimizzazione del controllo delle specie dei cinghiali. Mi vuole constatare, sottolinea Silvano Di Premio, presidente regionale Coldiretti Abruzzo, che a distanza di oltre un mese dalla riunione di consiglio di Coldiretti che aveva visto partecipare lo stesso assessore, non abbiamo potuto apprezzare alcun tipo di provvedimento per il ritorno all'autogoverno dei consorsi, necessario per sfruttare le grandi opportunità collegate al Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, anche in materia di risorse idriche. Come più volte ribadito sotto le linee di primio, ci sono investimenti che possono rivoluzionare la gestione di una risorsa importantissima, come l'acqua, ma questa opportunità può essere ricolta solo se riportiamo i consorsi alla gestione ordinaria, quindi in condizione di programmare il futuro, attraverso una concreta e lungimirante progettualità che va ben oltre il pareggio di bilancio. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Gran Sasso d'Italia, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, che ha approvato il progetto Punto Impresa Digitale, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green-oriented e del tessuto produttivo. Tale iniziativa assume particolare rilievo nello scenario economico attuale di ripartenza delle attività economiche nel post-Covid ed è finalizzata a favorire interventi appunto di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese ed al rilancio delle attività nella fase post-emergenziale. Per fruire dei benefici derivanti dal presente bando, le imprese devono presentare istanza a partire dalle ore 10 del 14 settembre fino alle ore 24 del 30 novembre prossimo. E questa sarà l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie per averci seguito anche oggi.